Buongiorno a tutti e bentornati nella nostra galassia. Come molti di voi sapranno la mappa di Anthem ha un grosso problema cioè la mancanza della possibilità di mettere dei waypoint e di conseguenza di dire o comunque far notare la presenza di tesori o comunque oggetti collezionabili o casse in questo caso che si possono aprire e di conseguenza ricevere del loot in giro per la mappa. Questo è una mancanza abbastanza grossa che spero venga sinceramente messa come priorità come modifica e come priorità da parte di Bioware. Ma comunque per fortuna nostra i fan di Anthem hanno fatto sì che non ce ne sia bisogno in quanto hanno creato questa mappa che vedete in schermo. Con tutto quello che potete trovare ovviamente nel free play di Anthem. Di conseguenza tutti quelli che vogliono scoprire i vari luoghi o comunque farsi un giro di casse oltre che fare le classiche quest world event possono tranquillamente utilizzare la mappa magari sul secondo schermo se lo avete o sul cellulare per sapere dove andare a cercare questo loot. Questo ovviamente è un video che finisce qui molto corto molto semplice spero vi possa far piacere. E con questo è tutto e noi ci vediamo la prossima volta. GG a tutti quanti!